Benvenuti ragazzi a questo nuovo video, come promesso oggi vi presenteremo il nostro preparatore ufficiale. Con Scud abbiamo preparato tutto l'occorrente e ora carichiamo il telaio sul furgone. Siamo arrivati ragazzi, siamo da Brianza Classic Garage, una vera mecca per gli appassionati del mondo classic. Ciao Domenico! Ciao ragazzi! Grazie mille di questa opportunità e di aiutarci a sviluppare questo nuovo progetto che abbiamo. Dai, presentati ai nostri fan, raccontaci un po' chi sei e quanto tempo ci hai messo a realizzare questa fantastica ufficina. Beh, allora, io sono Domenico, pensa bene, titolare del Brianza Classic Garage. Tutto quello che c'è qui nasce tutto da una passione sfrenata per le mitiche vespe e il mondo delle storiche. Ho voluto realizzare questo posto per rivivere tutto quello che comunque è gli anni 70-80 e riportarli al mondo di oggi. Davvero interessante Domenico, adesso ti diciamo cosa vogliamo da questa nostra preparazione. Dobbiamo realizzare una preparazione Endurance che tenga ad occhio affidabilità e prestazioni ma con il miglior rapporto qualità-prezzo. Ti abbiamo portato il nostro catalogo classic dove puoi trovare tutti i componenti necessari per la realizzazione. Bene. Inoltre, per finire, abbiamo nel furgone una chicca, un telaio da cui poter iniziare. Scud, andiamo a prendere il telaio. Ma questo telaio non è che vada molto bene per il progetto che avete in mente voi. E quindi? E quindi venite con me che ce l'ho io il telaio giusto per voi. Ottimo, andiamo. Secondo me il telaio giusto per voi è questo qua. Domenico, spiegaci come facciamo a passare da questo vecchio telaio alla nostra Super Vespa Pronto Gara. Certo. Andiamo in ufficio che vi illustro il tutto. Ok, quindi andremo innanzitutto a sabbiare il nostro telaio. Ci sarà poi una seconda fase di lattoneria. Dopodiché primer epossidico, stuccatura, fondo riempitivo e ciclistica. Ok, preparazione motore e infine verniciatura e poi assemblaggio. Tutto è chiarissimo. Non ci resta che salutarti, lasciarti organizzare al meglio il lavoro e soprattutto selezionare nel nostro catalogo tutta la ricambistica necessaria per questo progetto. Ok, perfetto. Quindi noi direi ci vediamo alla sabbiatura. Ok, bene. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Se volete rimanere aggiornati sulle prossime lavorazioni, quindi la sabbiatura, seguitici sui canali social, iscrizione e campanellina per non perdere ogni aggiornamento. Ciao Domenico, ci vediamo alla prossima. Ciao Francesco, ciao. Scoot, ma cosa ci fai qua? Bene, allora, dato che sei qua, vieni con me che mi dai un aiuto a portare il telavio in sabbiatura. Ciao. Grazie.